la forza della fragilità filosofia delle leggerezze come stile di vita e professione quello che mi interessa appunto come diceva Sonia riuscire a fare in questa prima parte è quello di darvi una cornice per riuscire a capire che cosa intendiamo appunto per leggerezza che cosa è il presupposto dal quale noi ci muoviamo per riuscire poi a definire che cos'è la resilienza come possiamo nutrirla come possiamo riconoscercela anche perché ovviamente è importante anche rendersi conto tante volte di quanto in realtà siamo molto più resilienti di quello che ci immaginiamo in alcuni momenti e come laddove non abbiamo la percezione di esserlo possiamo nutrire questa dimensione allora la leggerezza è per me prima di tutto una dimensione legata alla filosofia come stile di vita cioè una filosofia che non ha a che fare soltanto col discorso che non si confronta e non vive soltanto di riflessioni legate al pensiero ma che attua costantemente un movimento tra il pensiero la parola ovviamente ma soprattutto poi l'azione quindi un pensiero che interroga l'azione è un'azione che interpella nutre rinverdisce e in qualche modo rigenera il pensiero senza dimenticare mai una delle due dimensioni la parola è poi una delle traduzioni ovviamente di questo percorso quindi la filosofia come stile di vita è una filosofia che ci permette appunto di rendere il più possibile consapevole e attiva la nostra partecipazione all'esistenza e la nostra partecipazione alla professione quindi l'idea è quella di attraversare un po appunto sia una dimensione che ci riguarda come individui e quindi qualche cosa che abbia a che fare con se stessi con la cura di sé come direbbe appunto la filosofia con una pratica di consapevolezza ma anche di andare a vedere come questa consapevolezza o mancanza di consapevolezza agisce poi nella nostra professione e non ci permette a volte oppure ci permette di essere appunto resilienti di fare i conti col dolore che costantemente ci troviamo a vedere accadere o addirittura anche a vivere su noi stessi quindi in realtà parto anche dal presupposto che soprattutto nel vostro caso e mi ci metto anch'io nel nostro caso la professione è comunque necessariamente interconnessa anche alla vita personale e viceversa noi non possiamo per quanto mettiamo un camice prescindere e scindere dal fatto che siamo esseri umani e più siamo consapevoli di ciò che pensiamo e ciò che viviamo come esseri umani più possiamo essere consapevoli di come portiamo avanti la nostra professione ma andiamo un pezzo alla volta allora italo calvino come giustamente anticipava sonia ha trattato molto la leggerezza o quantomeno la trattata nelle lezioni americane che vi invito a leggere perché sono decisamente interessanti anche molto attuali e lui dice l'avrete sentita mille volte prendete la vita con leggerezza che leggerezza non è superficialità ma è planare sulle cose dall'alto e non avere macini sul cuore questa è la leggerezza come cercheremo di intenderla oggi quindi una leggerezza appunto che non è il non pensare alle cose o lo stare su una superficialità che in qualche modo ci distrae o ci allontana appunto da quella che è la dimensione intera che la vita ha che a volte anche in sé una certa grevità ma è la possibilità di planare sulle cose dall'alto che se devo intenderla col linguaggio della filosofia per me vuol dire imparare a allontanarsi da ciò che viviamo per guardarlo un pochino da fuori vuol dire ci direbbero i filosofi antichi praticare l'esercizio dello sguardo dall'alto cioè riuscire in qualche maniera a decentrarci riuscire a fare un passo diremmo forse nel nostro linguaggio di oggi fuori dal cerchio e guardarci agire interrogare la nostra azione ma soprattutto prenderne quella distanza che ci permette di mettere appunto uno spazio tra noi e ciò che facciamo ma anche ciò che ci accade senza che l'abbiamo scelto o ne siamo attori attivi e riuscire a dargli una forma una dimensione un confine un peso differente da quello che sentiamo nel momento in cui invece siamo in qualche modo sopraffatti da ciò che stiamo facendo da ciò che stiamo vivendo e non avere macini sul cuore è a mio avviso la traduzione ulteriore di questa questione cioè non avere questa sensazione di impotenza e di sopraffazione a partire da ciò che ci troviamo a vivere in una condizione appunto in cui soprattutto di fronte alla malattia e alla morte tante volte ci sentiamo completamente impotenti e la rabbia a volte o la tristezza la disperazione prendono il sopravvento e uso volentieri la parola disperazione perché poi avremo sicuramente modo magari poi nel pomeriggio o in altri momenti di lavorare magari su alcune parole tra cui sicuramente quella della speranza che è una delle parole che utilizziamo di più ma che lascia anche tanti fraintendimenti a volte vi aiuto a entrare un po in quello che man mano sto cercando di tratteggiare con una storia che amo molto di gianni rodari amo molto gianni rodari in generale e vi invito a leggerlo ovviamente in ogni sua sfaccettatura una volta il semaforo che sta a milano in piazza del duomo fece una stranezza tutte le sue luci ad un tratto si tinsero di blu e la gente non sapeva più come regolarsi attraversiamo o non attraversiamo stiamo o non stiamo da tutti i suoi occhi in tutte le direzioni il semaforo diffondeva l'insolito segnale blu di un blu che così blu il cielo di milano non era stato mai finalmente arrivò un vigile cercò la cassetta dei comandi per riparare il guasto e tolse la corrente prima di spegnersi il semaforo blu fece in tempo a pensare poveretti io avevo dato il segnale di via libera per il cielo se mi avessero capito ora tutti saprebbero volare ma forse mi ha mancato il coraggio questo per me ha molto a che fare con quello che vorrei passarvi oggi sul tema della leggerezza legato alla resilienza cioè la capacità di pensare altrimenti di immaginare e di narrarsi ciò che viviamo ciò che pensiamo ciò che temiamo anche parlavamo del covid delle mascherine ascoltavo il chiacchiericcio prima dell'inizio della lezione la preoccupazione che ci possa essere un nuovo lockdown allora imparare a leggere le trame di ciò che ci accade anche in un altro modo un semaforo che si spegne o che cambia colore può essere giustamente e all'inizio verosimilmente è così semplicemente sinonimo poi di spiazzamento per noi di confusione a volte di disperazione perché ci vengono a mancare alcune certezze o alcune tranquillità ma in realtà può essere anche sempre e comunque la grande occasione per provare qualcosa di inedito per mettersi nella possibilità di fare qualche cosa di diverso e sperimentare così soprattutto delle opportunità che altrimenti non pratichiamo non ci vengono offerte o raramente andiamo a cercare e allora il coraggio è questo non è la mancanza di paura il coraggio non è la prova di forza non è il tentativo di dare una prova di prestazione che spesso ci metterebbe anche l'ansia in cui consumiamo tutte le nostre risorse e le nostre energie ma è la possibilità di guardare appunto in un altro modo di aprire lo sguardo ed essere creativi la resilienza lo vedremo poi con tutta calma anche nel pomeriggio ha molto a che fare anche con la creatività col saper prendere ciò che abbiamo attenzione non andare a cercare qualcosa che non c'è o essere disperati perché avremmo bisogno appunto di un altro semaforo o di un passaggio a livello ma con quello che c'è giocare alla composizione degli ingredienti e di ciò che abbiamo tra le mani nella vita in un altro modo per darsi un'altra forma per darsi un'altra possibilità e nel caso ad esempio appunto della della favola della storia provare a volare qualsiasi cosa possa voler dire per noi provare appunto a volare quindi di nuovo il tema è quello di sollevarsi dal suolo di nuovo il tema è quello di cambiare posizione cambiare soprattutto punto di vista non mi fa andare avanti scusate probabilmente ok quindi di nuovo la filosofia ma anche la psicologia del profondo che sono un po le mie due passioni le mie due anime anche di formazione ci aiutano ad andare in questa direzione epiteto che poi ritroveremo di nuovo più avanti ci dice che non sono le cose che turbano l'uomo ma i giudizi che noi diamo su di esse e jung li fa eco dicendo che tutto dipende da come noi guardiamo le cose non da come le cose sono di per se stessi quindi il semaforo blu di cui abbiamo letto prima e le favole come sapeva bene anche platone quindi utilizzava i miti ci aiutano a comprendere per evocazione per amplificazione qualche cosa che raccontato razionalmente è più difficile magari da cogliere ci dice che un semaforo rimane un semaforo e un blu può rimanere semplicemente il colore sbagliato nella situazione attesa ma in realtà se noi riusciamo a vedere le cose in un altro modo può ribadisco diventare un'occasione può diventare un'opportunità quindi in base a come noi giudichiamo le cose e penso per esempio ovviamente alla professione che voi svolgete va poi a dare un indirizzo anche di azione e di intervento a quello che noi andiamo a fare questo ha molto a che fare prima di tutto ad esempio con la nostra capacità di ascolto metterci in ascolto vuol dire accettare che il semaforo in questo caso lo tratteggi il paziente in qualche modo ovviamente lo tratteggi la famiglia e non che noi andiamo all'altro già con i nostri bei tre colori strutturati con i nostri significati i nostri pre giudizi a proposito di giudizi e tutto ciò che non è conforme a quello che noi abbiamo deciso essere il modo in cui condurre una malattia una terminalità una cura o addirittura una morte allora è qualche cosa di sbagliato e dobbiamo quasi forzare la situazione per portarla dove noi vogliamo questo per ciò che attiene per esempio alla professione per ciò che attiene alla vita personale noi siamo perennemente condizionati ovviamente dai giudizi che diamo siamo perennemente condizionati dalle aspettative che abbiamo che sono di nuovo lenti con le quali guardiamo il mondo e con le quali valutiamo e giudichiamo ciò che ci accade se io oggi ed era così lo ammetto mi aspettavo di essere a bologna e di essere in aula con voi e di vivere un certo tipo di esperienza oggi ovviamente avrei potuto essere estremamente arrabbiata e scocciata perché così non è stato in realtà tutti noi abbiamo dovuto ridefinire la nostra aspettativa e riuscire a vivere con piacere e possibilità per quanto in maniera differente ciò che ci è accaduto questo è un esempio ovviamente estremamente banale e sciocco ma ci aiuta a capire quanto in realtà noi siamo perennemente condizionati da aspettative giudizi e spesso pre giudizi che noi abbiamo nei confronti delle persone della nostra vita e di noi stessi quindi riuscire prima di tutto a rendere consapevoli le lenti che portiamo i giudizi di cui siamo portatori e fare in modo a volte quantomeno di sospenderli un po questi giudizi ci può aiutare ad aprire le maglie del nostro sguardo a cambiare le lenti a depositarle o a metterne altri perché noi per fortuna abbiamo la possibilità anche attraverso l'esperienza di andare ad ampliare la possibilità di sguardo e di visione che abbiamo e ad esempio l'esercizio dell'ascolto che noi siamo chiamati a fare per professione costantemente è un ottimo esercizio per rimanere il più possibile plastici il più possibile mobili più possibile aperti con la capacità di cambiare le lenti e a volte e questo mi interessa ovviamente molto togliere gli occhiali accettare di vedere tutto molto sfocato non comprendere quello che stiamo vivendo e attendere rimanere in una disponibilità e in una sensazione di attesa fiduciosa che qualcosa emergerà di fronte a un semaforo che diventa blu lo spiazzamento è lecito di fronte a qualcosa che accade che non comprendiamo che ci spaventa lo spiazzamento è lecito ma allora anziché agire in maniera compulsiva e convulsa vale la pena attendere aspettare lasciare emergere lasciare che l'esistenza gli altri i pazienti nel caso del lavoro ci indichino qual è l'occhiale con cui è opportuno guardare e l'opportunità che è importante prendere l'arte del togliere peso è l'arte appunto che possiamo praticare attraverso la coltivazione della leggerezza cosa vuol dire vuol dire intanto che siamo abituati per esempio a portare una serie di armature che ci mettiamo nel corso della vita che ci vengono messe perché sono le aspettative degli altri il dover compiacere gli altri il portare maschere pesanti rispetto al nostro ruolo no penso appunto ai ruoli sanitari c'è questa idea forse a volte di incrollabilità che abbiamo nei confronti dei medici in particolare di capacità di avere sempre le risposte piuttosto che armature legate al fatto che dobbiamo difenderci dobbiamo proteggerci e in questo penso per esempio a come a volte cerchiamo di proteggerci dal dolore allora il camice che indossiamo diventa un'armatura non diventa in realtà semplicemente qualche cosa di un po più morbido e leggero da portare addosso e quindi in questo senso l'armatura è qualche cosa che può essere estremamente dannosa ma può essere anche ovviamente a volte estremamente utile l'importante è non rimanere prigionieri delle proprie armature noi abbiamo appunto una serie di armature più o meno pesanti che ci portiamo addosso e di cui non ci rendiamo neanche più conto di portare il peso allora può essere importante cercare di capire perché le indossiamo cercare di capire chi ce le ha messe addosso cercare di decidere consapevolmente se ci sono utili o se ci creano in realtà una fatica nei movimenti e in quello che vogliamo fare e soprattutto piano piano arrivare ad averne la chiave e quindi essere noi a poter decidere quando mettere e quando togliere questa armatura quando proteggerci ma quando invece questo diventa quasi qualche cosa che invece ci seppellisce ci irrigidisce ci rende poco porosi e diventa qualche cosa invece di totalmente impermeabile alla voce del mondo alla voce dell'altro alla voce dell'esperienza no penso alle abitudini le abitudini rischiano a volte di diventare estremamente rigide estremamente rassicuranti quando nominiamo sentiamo nominare le zone di comfort tutti noi le abbiamo e ne abbiamo bisogno per carità del cielo però a volte rischiano di diventare una prigione che per quanto rassicurante rigidisce la nostra capacità di operare questo accade spesso e volentieri non solo nella vita privata ma anche nella vita professionale ci rassicuriamo attraverso la capacità giustamente operativa attraverso la professionalità attraverso tutte le competenze che abbiamo ma rischiamo di non restare più in connessione o con ciò che abbiamo dentro e che ci interpella ci muove ci motiva o giustamente fa sentire una fatica fa sentire senza pensare spero di arrivarci per nessuno di voi ma per esempio il rischio di arrivare al burnout perché troppo affaticati e sopraffatti appunto dalla fatica e dal dolore ma può anche far mettere una barriera nell'ascolto dell'altro e quindi diventare appunto quella sicurezza quell'abitudine per la quale ci sembra che ogni caso ogni situazione clinica sia in qualche modo la riproduzione o la ripetizione di qualche altra ecco lì vuol dire che la nostra armatura è diventata eccessivamente stretta vuol dire che non passa aria e quando non passa aria sia chi stiamo aiutando professionalmente sia noi stessi siamo prigionieri di una situazione asfittica che rischia di indebolire le nostre risorse le nostre capacità le nostre potenzialità questo poi lo vedremo ma spesso si mette la armatura perché si teme la propria fragilità e la propria vulnerabilità allora aprire le maglie della della nostra armatura vuol dire anche accettare e tollerare che siamo fragili che senza l'armatura potremmo forse farci un pochino più di male non è detto si può imparare a proteggersi bisogna imparare a proteggersi ma senza appunto rimanere prigionieri o in qualche modo appunto reclusi nella propria armatura così come a volte ci portiamo dietro e ho messo l'immagine del film di mission che immagino abbiate visto se no ve lo consiglio ci portiamo dietro dei pesi che sono decisamente inutili che sono frutto di un passato penso per esempio alla vita privata frutto di alcuni sensi di colpa frutto di una cultura che ci carica come dei somari penso a nice non volevo offendere nessuno che dicono sempre di sì somari o poi eventualmente cammelli ma che si trascinano senza rendersi conto questi enormi sacchi neri dove in realtà le cose preziose o le cose utili da tenere sono spesso molto poche allora anche imparare per togliere peso a dare le giuste priorità a dare le giuste proporzioni a mettere sulla bilancia sulla bilancia ciò che vale e ciò che non vale ciò che conta davvero e ciò che non conta più contava magari non conta più e riuscire a ridistribuire trasfondi ai primi piani quello che ci ingaggia quello che ci interpella quello che è urgente noi viviamo in una società e spesso anche il lavoro è così in cui sembra sempre tutto estremamente urgente sembra tutta un'emergenza adesso a maggior ragione in realtà ci sono delle cose che emergono appunto oggi e ci stupiscono ma ci sono delle cose con cui possiamo fare i conti già da tempo e distribuire appunto ciò che deve venire in primo piano e ciò che può andare un pochino indietro ciò che può andare sullo sfondo e ciò che addirittura è opportuno che esca dal quadro perché altrimenti il quadro non è armonico è eccessivamente pieno e soffocante e allora questo significa andare nella direzione per esempio di darsi dei valori di darsi delle priorità di darsi appunto delle scale per cui qualcosa può essere fatto dopo o domani o mai e va bene lo stesso quindi vuol dire fare i conti anche con la rinuncia con il limite vuol dire fare i conti con la possibilità appunto di cogliere ciò che è essenziale e ciò che non lo è e questo è un esercizio estremamente importante che noi possiamo fare per la vita privata e per la vita professionale chiederci ogni tanto che cosa conta davvero che cosa ora adesso è prioritario in questa situazione davanti a questo bambino davanti a questa famiglia nell'equip o pensando alla vita privata nella mia vita nella mia vita quotidiana che cosa conta davvero e lì ridistribuire pesi misure proporzioni opportunità e di nuovo in questo ovviamente fermarci e guardarci da fuori aiuta moltissimo la centratura che serve a fare questo lavoro a fare questa pratica appunto del togliere peso come state intuendo parlo di pratiche non penso a delle pratiche nello specifico o quantomeno non delle pratiche necessariamente orientali buddiste cristiane penso in generale al fatto che ciascuno di noi ha bisogno però di praticare e di trovare il proprio ambito all'interno del quale praticare questo perché se noi rimaniamo appunto centrati riusciamo poi a entrare e uscire dal mondo entrare e uscire in noi stessi entrare e uscire nella nostra professione proteggendoci e proteggendo gli altri anche nella nostra capacità operativa quindi questo vuol dire quando continuo a nominare lo sguardo dall'alto prendersi del tempo prendersi del tempo di contemplazione di osservazione di sosta di silenzio di sospensione del giudizio visto che parlavamo appunto di giudizio sospensione del giudizio vuol dire mi verrebbe da interpretare giudicare valutare questa cosa così perché siamo necessariamente giudicanti ma aspetto sospendo attendo guardo osservo mi ascolto e lì poi posso decidere qual è il giudizio più opportuno senza pensare che sia l'unico che sia quello definitivo e necessariamente giusto e quindi tenere ciò che conta tenere ciò che conta vuol dire che noi in realtà abbiamo sempre la possibilità di andare a ritrovare soprattutto quando magari ci sembra di averlo perso ciò che è prezioso e non a caso ho messo uno scrigno ciò che magari abbiamo l'impressione anche che pesi un pochettino ma non ci rinunceremmo mai e in questo per esempio penso nella vita privata agli affetti alle proprie pratiche appunto nutrienti e rigeneranti penso a ciò che per noi è fondamentale nella vita anche in termini di valori etici morali che ci fanno sentire che la nostra vita ha un senso una direzione o nella professione penso alla motivazione è bello ogni tanto e vi invito a farlo andare a ritrovare i motivi che ci hanno portato a fare un lavoro così difficile come nel vostro caso nel nostro caso così umanamente impegnativo così preziosamente coinvolgente tante volte no ma vuol dire che lì c'è qualcosa di prezioso c'è qualcosa che ci interpella profondamente c'è qualcosa che dice di noi o che vuole che noi diciamo qualcosa ad altri perché lo riteniamo fondamentale come senso del vivere come scopo della vita allora mantenere e trattenere ciò che conta e ritrovarlo quando ci sembra di averlo perso ha molto a che fare con la resilienza ha molto a che fare con l'avere chiare e qui questo albero molto bello le nostre radici le nostre radici valoriali le nostre radici biografiche quindi la nostra storia come siamo arrivati dove siamo grazie a quali relazioni grazie a quali maestri di vita e non maestri per forza con la m maiuscola magari ne abbiamo incontrati o ne abbiamo letti perché per fortuna non è che dobbiamo solo incontrare maestri viventi però quante volte i pazienti per me sicuramente così e so che per molti di voi lo sarà sono stati maestri o i loro familiari o qualche collega e allora tutto questo ci radica tutto questo ci permette di rimanere aderenti a una realtà che però è una realtà che appunto non è una realtà che vincola non ho messo la palla al piede non ho messo una catena che in qualche modo non mi permette di ascendere l'albero più radica più ha radici ampie e profonde più riesce ad elevarsi e questo vale anche per l'essere umano noi poi lo vedremo dobbiamo rimanere in questa tensione tra l'alto e il basso che ha a che fare anche con la nostra dimensione spirituale oltre che esistenziale che peraltro non sono ovviamente due realtà disconnesse tra di loro quindi andare a ricercare a ritrovare le proprie radici è un esercizio importante da rifare con una certa continuità perché ci permette appunto di capire se le nostre radici sono ancora vive vitali se c'è bisogno di andare a cercare nutrimento altrove se c'è bisogno di recidere qualche radice malata secca o che non funziona più per dare la possibilità ad altre radici invece di correre sia fittone sia a rizoma noi abbiamo bisogno tanto di profondità quanto di andare nelle direzioni verso l'ampiezza e questo come possibilità appunto nutritiva per riuscire anche poi ovviamente stiamo parlando di leggerezza a reggere ciò che pesa perché altrimenti se noi non abbiamo buone radici buone motivazioni buone occasioni e opportunità per stare là dove stiamo tutto diventa privo di senso diventa particolarmente greve diventa privo di orizzonte di cornici allora diventa ovviamente insostenibile alla lunga e comunque produce indubbiamente sintomi mentali fisici spirituali più o meno pesanti quindi andare a prenderci cura delle nostre radici è assolutamente necessario noi a volte ci dimentichiamo di bagnare la pianta che siamo ci dimentichiamo di aprire il nostro scrigno e godere di quelle cose preziose che ci sono dentro che ci fortificano ci indirizzano anche nel mantenere appunto la nostra strada però e questo ci riporta appunto di nuovo alla leggerezza questa è una pratica che va coltivata noi a volte abbiamo l'ambizione di rimanere centrati motivati nutriti energici vitali e tutto quello che vorremmo sempre essere nei nostri deliri di performance meravigliose sia private che professionali in realtà ci dimentichiamo di andare a nutrire la nostra fonte di andare a rigenerare o almeno a tenere pulita la fonte del nostro desiderio dei nostri sogni delle nostre motivazioni e uso una parola che amo e che a volte è utilizzata solo in ambito religioso ma che possiamo recuperare tranquillamente anche in ambito più laico recuperare la nostra vocazione cioè la chiamata la direzione che ci rende completi autentici che tesse insieme appunto ciò che pensiamo ciò che facciamo ciò che desideriamo e che ci permette anche poi di reggere quel limite che nominavo prima che necessariamente nella vita incontriamo perché evidentemente che ci piaccia o no il limite fa parte dell'esistenza e se ci lavoriamo nel mezzo forse anche noi abbiamo bisogno costantemente di confrontarci con quel limite perché questo ci mantiene in una certa posizione allora per esempio se devo pensare al tenere ciò che conta appunto è mantenere la leggerezza penso al fatto che dobbiamo per esempio o più che dobbiamo possiamo vivere la nostra professione e l'occasione quotidiana che abbiamo di incontro col dolore la sofferenza la morte ma anche perché lo sappiamo con la potenza e la straordinarietà della vita e dell'essere umano anche di fronte a queste situazioni così terribili vivere la nostra professione come un esercizio costante di consapevolezza e di centratura perché io credo e non lo credo ovviamente solo io che è un grande privilegio non per fare del romanticismo ma è un grande privilegio il lavoro che noi facciamo di radicamento sulla vita radicamento nella vita cioè noi abbiamo l'opportunità che pochissime altre persone hanno al di fuori delle nostre professioni di rimanere in contatto con la vita per quella che è e non con la vita per quella che vorremmo che fosse noi abbiamo l'opportunità quotidiana e la fatica quotidiana per questo non faccio del romanticismo di vedere e di stare nella vita per quella che è nella sua meraviglia e nella sua parte terrifica che è esattamente quello che costituisce l'esistenza la filosofia da sempre guarda a questo doppio volto dell'esistenza che in è un'unica dimensione un'unica esistenza che si dice anche appunto la filosofia nasce tanto dall'interrogazione sul dolore quanto sullo stupore e sulla meraviglia perché sono due facce appunto della stessa medaglia quando ci si affaccia sull'abisso quando ci si affaccia sull'inedito sull'incontrollabile ovviamente quello che può emergere è tanto lo stupore della meraviglia quanto il terrore del nulla o del non senso o della sofferenza più tremenda noi ci affacciamo costantemente a questa soglia non è un caso che ci diciamo ed è vero che lavoriamo sulla soglia e questa soglia è una soglia che se continuiamo ad abitare in maniera mobile plastica e vitale è una soglia estremamente potente e generativa per la nostra vita privata esistenziale spirituale perché ci interpella profondamente e per la vita professionale perché se noi restiamo plastici il più possibile armonici il più possibile in dialogo con questa dimensione allora restiamo davvero in ascolto delle persone con cui abbiamo a che fare che incontriamo di cui ci prendiamo cura e che accompagniamo fino alla fine della loro vita o fino all'inizio del loro lutto che in realtà inizia molto prima però poi si fa come dire concreto di fronte alla morte reale e allora in questo restare in movimento l'invito è andiamo a recuperare queste dimensioni vocazionali vocazionali ribadisco non che allora uno fa il medico l'infermiere tipo candy candy o salvatore del mondo ma se ancora lì e sta ancora facendo quel lavoro dopo anni o l'ha scelto per carità il caso forse esiste non lo so ma sicuramente c'è qualche cosa che ci porta a rimanere lì a rimanere in quel contesto allora ritroviamola con la sorgente ritroviamo con la fonte perché è la fonte della nostra capacità di resilienza è la fonte della nostra possibilità di rimanere vivi vitali svegli all'interno di quella di quella possibilità questo non vuol dire che allora non faremo mai fatica non è un inno a un nuovo delirio di onnipotenza perché ne abbiamo già abbastanza ma è la possibilità appunto di rimanere ampi di rimanere porosi di rimanere appunto in ascolto sia di ciò che viene da dentro sia di ciò che viene da fuori perché quando una delle due dimensioni manca iniziamo a stare male iniziamo a soffrire o a far soffrire gli altri quindi dare il giusto peso vuol dire dopo essersi radicati e ricordandosi sempre delle proprie radici delle proprie possibilità e risorse poter dare la miglior chioma o la migliore fioritura possibile che per ciascuno di noi è qualcosa di diverso per fortuna allora il vantaggio della vita sia privata che professionale è che siamo tanti alberi tanti fiori tanti frutti adesso poi possiamo uscire dalla metafora ortofrutticola però l'idea è proprio quella che ciascuno porterà la propria fioritura e questo è tanto meraviglioso quanto difficile perché giustamente vuol dire a quel punto armonizzare e trovare la possibilità di rimanere in relazione con persone diverse idee diverse giudizi diversi aspettative diversi valori diversi pensate alla vita privata sicuramente ma anche alla vita professionale oggi lo vedremo come il lavoro d'equip è una piantagione a volte veramente molto varia dove a volte abbiamo addirittura l'impressione di piante infestanti oppure a volte di fiori bellissime che non avevamo mai visto armonizzare le differenze è qualcosa di molto difficile però è anche vero che ciò che permette appunto di nuovo di rimanere in dialogo di rimanere aperti di rimanere con una visione ampia che interroga mette in discussione anche perché no le nostre posizioni etiche valoriali in una possibilità di tessitura non di rinuncia ma neanche di conflitto perenne ma di tessitura dove la cosa importante è sempre perché anche questo è fondamentale avere un orientamento avere una direzione richiarirsi sulle cornici le cornici sono fondamentali altrimenti il quadro non sta in piedi altrimenti il quadro non ha la benché minima armonia questa è l'altra questione fondamentale che accennavo prima noi spesso temiamo la nostra fragilità temiamo la vulnerabilità mettiamo le armature o ci vestiamo di mille sicurezze perché abbiamo in qualche modo il timore di mostrarci e dimostrare che noi in realtà siamo fragili siamo fragili che vuol dire non che siamo deboli incapaci o che ci frantumiamo facilmente come il cristallo ma che siamo cangianti che siamo fatti di tanti aspetti che giustamente hanno in sé tanto la forza quanto la vulnerabilità che per definizione come esseri umani appunto siamo vulnerabili siamo in dialogo con ciò che ci accade e ciò che ci accade a volte ci ferisce a volte ci spiazza a volte ci arresta a volte ci toglie speranze motivazioni che ci sembravano così chiare allora fare i conti con la fragilità fondamentalmente vuol dire accettarla in noi e negli altri e riconoscere che il coraggio e la possibilità di vivere nel migliore dei modi ha a che fare con accogliere questa fragilità con lasciarla affiorare e lasciare che come uno dei tanti ingredienti della vita vada a comporre la ricetta migliore se noi passiamo troppo tempo a cercare di sconfiggere di tacere di rimuovere la nostra fragilità il nostro timore rischiamo di non essere mai davvero autentici di non guardarci e di non lasciarci mai guardare in una maniera autentica autentica vuol dire connessa appunto con tutte le dimensioni che noi abbiamo belle brutte luminose o ombratili molto dure o molto morbide noi siamo per fortuna soggetti estremamente articolati e la vita è estremamente articolata allora accettare anche di esporsi vuol dire davvero avere coraggio il coraggio o la speranza di poter stare anche nella paura di poter stare nella possibilità di anche di ferirsi un pochino anche di non avere delle risposte pensiamo anche qui per esempio all'ambito professionale no quante volte caschiamo nella trappola di dover avere per forza delle risposte da dare in realtà a volte può essere estremamente utile dire su questa cosa non so rispondere di questa cosa questa cosa mi spiazza questa cosa la devo devo prendermi un attimo di tempo per pensarci oppure possiamo pensarci insieme e vedere quale può essere la risposta e questo vuol dire permettere di tirare il fiato se noi accettiamo la fragilità la vulnerabilità e accettiamo di essere autentici ci permettiamo appunto anche di non vivere in apnea che è un altro aspetto della non leggerezza accettare la fragilità vuol dire rimanere appunto in un ascolto attivo con se stesso e con gli altri senza paura di rimanere prigionieri della disperazione del terrore della impotenza che è una delle cose probabilmente che ci spaventa di più e quindi fare i conti con la fragilità vuol dire accettarla vuol dire conoscerla vuol dire vederla peraltro come dimensione universale dell'essere umano non siamo non sono fragile solo io non sono vulnerabile ed esposta alla ferita o alla sofferenza solo io ma tutti noi lo siamo e questa è esattamente il contenitore il contesto e la culla possibile della relazione di una relazione che cura e c'è ovviamente un modo di intendere la cura molto ampio e molto anche diverso da quella che può essere la cura clinica in senso stretto quindi la necessità è quella di riuscire a farsi carico appunto di una fragilità reciproca che ci permette un legame un ascolto una definizione di ciò verso il quale vogliamo tendere sia per la vita personale sia per la vita relazionale sia per la vita professionale senza la quale appunto non avremmo un incontro non avremmo l'incontro che permette poi di percorrere davvero insieme la via che abbiamo scelto anche per la cura appunto in ambito professionale e quindi dobbiamo poterci permettere una sorta di seconda nascita che poi seconda terza quarta noi in realtà rinasciamo e ci rimettiamo al mondo forse addirittura tutti i giorni ricominciamo più e più volte nella vita e professionalmente ed è forse una delle cose più belle ma anche più stancanti del nostro lavoro ogni volta che incontriamo una persona in qualche modo è come se ricominciassimo almeno per una quota la nostra attività quasi da zero ovviamente esagero però noi non sappiamo quale mondo si aprirà noi non sappiamo quale direzione ci verrà chiesto di intraprendere con quella persona abbiamo indubbiamente tutte le nostre conoscenze e competenze ci mancherebbe ma quella storia è unica ed è la prima volta che la incontriamo e quindi farà incontrare anche a noi una parte di noi stessi che è la prima volta probabilmente che vedremo o che vedremo in quel modo quando smettiamo di essere così aperti e stupiti all'incontro probabilmente stiamo un po' ossificando la nostra apertura e disponibilità professionale allora essere aperti a una seconda nascita e non a caso ho scelto questi nuvoloni neri vuol dire anche saper stare un pochino a volte nelle tempeste saper stare nella inquietudine saper stare nella mancanza magari immediata di direzioni e di risposte e tollerare accettare e fidarsi che a un certo punto le risposte emergeranno ma non in una planiera magica e non sto facendo deliri alchimistici strani o di magie da sfera di cristallo ma se noi ci acquietiamo spesso e volentieri la direzione poi la intravediamo perché ce l'abbiamo la chiarezza per intraprendere anche insieme agli altri la direzione più opportuna però dobbiamo anche lasciare che appunto le nuvole o la tempesta di sabbia che a volte ci si crea intorno si depositi allora questa possibilità sempre comunque di rinascere di ricominciare a che fare appunto con le radici a che fare con l'essenzialità e l'essenza dell'esistenza a che fare col tollerare il farsi carico della libertà la nostra libertà e la libertà dell'altro e libertà non vuol dire essere svincolati da qualsiasi cosa e fare quello che si vuole questa è una forma di libertà che peraltro appunto adesso sentiamo un po' zoppicare ma è la libertà del prendersi la responsabilità di dove vogliamo andare di come ci vogliamo andare di quale direzione prendere la vera libertà in realtà è abbastanza terrorizzante perché vuol dire davvero essere privi il più possibile di vincoli e condizionamenti e quindi prendere la responsabilità delle proprie decisioni e della propria direzione e questo in realtà nella pratica sanitaria la si conosce anche come fatica come peso come appunto responsabilità forte che a volte ci porta volenti o nolenti sapendolo o no magari anche a difenderci quando si parla di medicina difensiva no perché la responsabilità è qualche cosa che ha un suo peso ma anche una grande opportunità e prendersi la responsabilità soprattutto della propria vita ma anche poi di gestire la propria professione insieme alla propria equip ha a che fare con la possibilità di giocarsi al meglio la propria libertà in una direzione di senso che è una possibilità di nuova nascita è un rimettersi al mondo in una direzione migliore più opportuna più desiderabile con una possibilità di sguardo di insieme che altrimenti probabilmente non darebbe la stessa lo stesso risultato e la stessa opportunità a tutti gli attori coinvolti in quello che stiamo facendo e quindi in qualche modo stiamo anche ridefinendo perché no cosa intendiamo per cura cosa significa e anche questa è una domanda che ogni tanto dovremmo farci come individui e come equip come gruppo di lavoro che cosa intendiamo come cura che cosa vuol dire per noi oggi prendersi cura degli altri quali sono le dimensioni fondamentali e quelle invece secondarie quali sono gli irrinunciabili e cosa invece potenzialmente può andare un pochino più sullo sfondo su che cosa siamo disposti a appunto impegnarci perché non vengano perdute e che cosa invece può andare altrove o addirittura sta diventando fonte di inquinamento di confusione o di fatica nella nostra vita o nella nostra professione e l'altro aspetto fondamentale sulla seconda nascita sul rimettersi al mondo è ho parlato prima di delirio di onnipotenza riuscire sempre a rimanere lucidi il più possibile in questo l'equip può essere faticosa ma è una grande risorsa tra ciò che possiamo cambiare e ciò che non possiamo cambiare tra ciò che dobbiamo accettare e ciò che non possiamo accettare quando dicevo avrei nominato di nuovo epiteto o epiteto che dir si voglia è esattamente questo una delle tante cose che ci dice uno di stare attenti ai giudizi perché condizionano completamente il nostro sguardo e la nostra vita le nostre scelte e due di riuscire a rimanere sempre il più possibile lucidi nella distinzione tra ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da noi perché a volte ci incapponiamo spendiamo un sacco di energia a volte addirittura ci logoriamo nel tentare di scardinare e cambiare qualcosa che non dipende da noi e rischiamo di dimenticarci invece di quanta potenza e possibilità c'è nel poter trasformare qualche cosa invece che dipende da noi che magari è piccolo è minuto è sottile ma fa la differenza se pensate a quello che spesso alcuna alcuni settori della medicina o la popolazione in generale pensa delle cure palliative è che sono una sconfitta che sono una rinuncia che sono l'ultima spiaggia della disperazione dove si dice non si può più fare niente in realtà noi lo sappiamo si può fare altro allora questo secondo me è la traduzione che meglio mi viene soprattutto sull'ambito professionale tra ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da noi non dipende da noi riuscire a tenere in vita qualcuno che ha un cancro o una slà o una malattia che necessariamente purtroppo è arrivata a uno stadio terminale finale o molto grave ma sta a noi decidere che quel tempo di vita è un tempo di vita fondamentale è un tempo di vita carico di senso di relazioni di significati e allora non è che appunto non c'è più niente da fare certo nell'ottica delle cure attive e del mantenere in vita forse non c'è più niente da fare ma nell'ottica del dare sollievo del non lasciare da soli del curare i sintomi e tutto quello che di buono facciamo nelle nostre professioni c'è moltissimo da fare allora capite che è un cambio di sguardo là non possiamo intervenire qua possiamo fare moltissimo e questo vale in realtà per moltissimi ambiti della nostra vita perché nel momento in cui riusciamo a guardare le cose da un altro punto di vista come semaforo blu ci ha suggerito allora si liberano enormi infinite potenzialità e possibilità e quindi davvero a quel punto l'occasione di fare molto c'è però c'è proprio a partire dal limite di ciò dell'accettazione del limite di ciò che non si può fare e questo se ci pensate di nuovo un altro grande esercizio possiamo farlo in molti aspetti della nostra esistenza laddove accettiamo in qualche modo e anche questo è difficile ma riusciamo a darci pace su alcune cose ci liberiamo ci svincoliamo e ritroviamo una grandissima potenza invece nel fare altro che apparentemente magari prima sembrava inutile sottile banale ma in realtà fa appunto davvero la differenza nell'esistenza parlo talmente tanto che poi mi si impalla ecco quindi quello verso cui stiamo andando e anch'io pian pianino mi avvio alla conclusione è l'armonia degli opposti cioè riuscire a rimanere in tensione l'aquilone ce lo esprime molto bene ma potremmo anche mettere come abbiamo fatto prima l'albero piuttosto che pensando anche a nice di nuovo il funambolo questa tensione questo equilibrio dove non dimenticarci mai di ciò che è molto alto ma neanche di ciò che è estremamente profondo e basso non negare mai la tensione che dobbiamo riuscire a mantenere appunto un po' funambolica tra ciò che ci dispera e ciò che ci fa sentire eccessivamente onnipotenti tra ciò che ci costringe troppo alla terra la quotidianità all'azione che rischia di diventare asfittica insensata e ciò che invece ci porta verso ciò che è alto verso ciò che ridipinge il senso delle cose verso ciò che da respiro e quindi anche mantenere questo movimento no tra il guardare quando siamo in basso verso l'alto e riuscire invece ad elevarci e guardare verso il basso perché l'azione sia costantemente nutrita dal pensiero e dalla direzione di senso e il senso sia costantemente rigenerato e nutrito dalla nostra azione quotidiana altrimenti quella autenticità che ne nominavo prima viene a perdersi viene rimaniamo disconnessi manca un pezzo a questo proposito la cito anche nel mio libro vi invito ad ascoltare la canzone di giorgio gaber che si intitola la leggerezza che appunto fa sorridere perché come gaber è ovviamente anche ironica e l'ironia è una delle più grandi armi che abbiamo per scardinare ciò che pesa e ridare leggerezza anche solo per un attimo e nella sua canzone appunto c'è questa idea della gravità della terra e poi però c'è il ritornello che costantemente porta a questa capacità di saltellare lui dice di sollevarsi dal suolo almeno di due dita ecco quando ci rendiamo conto che siamo troppo prigionieri di uno sguardo in basso ancorato eccessivamente alla terra solleviamoci anche solo di due dita appunto nella ricerca di questa armonia tra gli opposti che fa dell'essere umano un essere umano e fa dell'esistenza l'esistenza per quella che è e non appunto per quella che a volte abbiamo bisogno di dipingerci per renderla forse meno greve ma poi poco reale e allora facciamo i conti e vado davvero pian piano a chiudere con il tempo il tempo che è il grande tema soprattutto delle cure palliative abbiamo sempre poco tempo ci danno sempre meno tempo i pazienti arrivano sempre più tardi alle cure palliative e quindi quello che si riesce a fare in un percorso anche di consapevolezza non per forza necessario ma a volte auspicabile e comunque un percorso che anche per gli operatori sia un percorso appunto di senso il tempo è la grande questione allora il tempo noi possiamo però sempre anche qui cercare di vederlo almeno in due modi il tempo come vecchio uomo con la falce che quindi in qualche modo divora i suoi figli fa scendere la sabbia nella clessidra e si consuma velocemente senza che noi lo vogliamo per cui ti giri e hai già come nel mio caso 50 anni e dici ma oddio com'è possibile è volata e invece un tempo molto più interessante che il tempo opportuno quello di prima era kronos questo è kairos il kairos come tempo appunto dell'attimo il tempo presente il tempo della meraviglia che è la meraviglia che deriva proprio dal fatto che in particolare non mi soffermo troppo sull'iconografia ma se vi interesserà vi invito ad andarlo a vedere il tempo opportuno è rappresentato in particolare con questo lungo ciuffo davanti e questa testa completamente pelata dietro perché il tempo opportuno se non lo vedi arrivare non lo afferri quando è passato non lo prendi più allora imparare a praticare l'attenzione al tempo opportuno che è l'esercizio della consapevolezza che è se vogliamo visto che adesso l'abbiamo imparata a conoscere con questo nome e va benissimo quello che pratichiamo con la mindfulness ma è la pratica esistenziale da sempre della filosofia buddista piuttosto che di appunto della filosofia antica o del monachesimo cristiano mettetela nella nella cornice che vi piace di più ma il concetto è riuscire a stare nel tempo presente nel tempo opportuno nel tempo di ciò che accade non nel rimpianto di ciò che è stato perché non possiamo più farci nulla se non imparare qualcosa dal passato non possiamo ripararlo ma neanche stare troppo nel tempo futuro perché intanto non ci appartiene e abbiamo visto molto bene a marzo di quest'anno ci può spiazzare nei modi più imprevisti più tremendi ma anche tante volte per fortuna e l'ho nominato la meraviglia anche più meravigliosi più ricchi di stupore quindi in realtà riuscire anche a centrarsi nel tempo presente è un'altra delle occasioni delle opportunità fondamentali per riuscire a vivere con una leggerezza allora qual è l'ingrediente segreto che tra tutti i maestri che potevo scegliere di sapienza millenaria ovviamente ho scelto Kung Fu Panda che i miei figli mi hanno fatto conoscere e apprezzare più e più volte perché me l'avranno fatto vedere 8-9 volte l'ingrediente segreto siamo noi stessi c'è una scena di Kung Fu Panda mi spiace svelarla ma ci è fondamentale ma se non l'avete visto andate comunque a vederlo in cui lui cerca questo ingrediente segreto fondamentale per diventare il maestro di Kung Fu e in realtà quando apre la pergamena che dovrebbe contenere questo enorme segreto è uno specchio quindi in realtà l'ingrediente segreto siamo noi cioè la nostra capacità di esercitarci di conoscerci, di rimanere nella possibilità di coltivare questa leggerezza di non lasciare semplicemente che ogni tanto in maniera più o meno casuale ci sorprenda, ci accada ma andiamocela a coltivare, andiamocela a cercare andiamo a riscoprire quelle relazioni, quelle occasioni quelle pratiche, perché spesso sono pratiche o anche quelle letture, anche la lettura è una pratica che ci permette di riprendere fiato di rigenerarci, di ritrovarci, di ricollocarci lo dicevo tra l'altro proprio in Vidas tempo fa durante un incontro ma vale per tutti e vale sempre anche quando entriamo al lavoro non facciamolo in maniera eccessivamente veloce e così quando ne usciamo fermiamoci un attimo, centriamoci mettiamo insieme al camice o alla divisa la posizione che sarà opportuno tenere in quella giornata e quando usciamo riprendiamo la posizione che vogliamo prendere nel corso della nostra vita privata perché altrimenti non siamo mai né dentro né fuori non siamo mai né qui né altrove non siamo mai né adesso né prima né dopo e allora anche da una stanza all'altra sarebbe opportuno prendersi un minuto e dire ok, sto entrando in una nuova stanza chi sto per incontrare mi predispongo vi assicuro che ci vogliono 30 secondi? se siamo proprio bravi abbiamo tempo un minuto però fa la differenza perché altrimenti la leggerezza spesso la perdiamo perché ci decentriamo eccessivamente o appunto a proposito della tensione che suggerivo di tenere prima ci estroflettiamo troppo verso il mondo e ci perdiamo noi oppure ci chiudiamo troppo su noi stessi e ci perdiamo il mondo e il mondo si perde qualcosa di buono che noi possiamo soprattutto professionalmente offrire quindi se appunto dobbiamo pensare a un ingrediente segreto è sicuramente quello dell'esercizio quello della centratura quello della consapevolezza sia professionale che personale e andare a cercare quei luoghi e quelle occasioni come spero potrà essere questo corso anche oggi per poterle coltivare e mantenere il più possibile è sicuramente